Buonasera. Bentornati. Stasera è un seminario che continua il filone storiografico, storico, al quale diamo tanta, tanta importanza da un punto di vista formativo nella scuola Biospsichè. Pensiamo che studiare la storia sia molto importante affinché i nostri studenti possano costruirsi un'identità che li aiuti poi nel lavoro e nell'attività psicoterapeutica, perché studiare la storia vuol dire confrontarsi con le prassi e conseguentemente con le teorie che ci sono dietro le prassi e osservare le eventuali carenze e lacune teoriche, come dice Andrea Cantini. Stasera ci sono cinque, sei, perché da casa c'è anche la professoressa Carmela Morabito, che non è potuta essere qua ma che ci segue nella diretta Zoom e che può intervenire in qualunque momento intenda farlo. Insieme con lei c'è Davide Armando che ci aiuterà a tenere il filo con la volta scorsa. Davide Armando è un dirigente dell'Istituto della Ricerca degli Studi Filosofici e Scientifici del CNR. Andrea Siaccarella anche l'avete ascoltato la volta scorsa ed è un ricercatore del Center of the Humanities Gramsci e For the Humanities è l'editor della nostra rivista, Andrea Masini, psichiatra, psicoterapeuta e direttore del Sogno della Farfalla. Mattia Della Rocca è docente della nostra scuola ma è anche o soprattutto un professore attorvergata sia di filosofia che di psicologia da molti anni. Ed infine Beniamino Gigli che è psichiatra e psicoterapeuta ci aiuteranno a approfondire un pezzo di storia importantissimo che è quello che si è sviluppato come abbiamo ascoltato la volta scorsa dalla fine del Settecento durante tutto l'Ottocento finiremo con Beniamino Gigli a cavallo tra Ottocento e Novecento, primi anni del Novecento. è un periodo importantissimo che vede tante persone, vede l'evolversi del pensiero e il prendere le basi della psicoterapia. cercheremo di approfondire come questo pensiero si è evoluto a partire da Mesmer per arrivare al Novecento che è sfociare poi nella psicanalisi. il senso di tutto questo è di studiare approfonditamente come si è cercato di inserire la psicoterapia nel rapporto con pazienti, prima o meno ma poi con pazienti gravi come ha provato a fare Bloiler al Burgholz. lascio la parola a Davide Armando, spero che Carmela ci senta e buona serata. grazie Paolo, grazie a tutti i colleghi, gli amici che hanno accettato di partecipare a questo incontro e in particolare anche a Carmela che saluto da lontano. io vorrei soltanto fare un piccolissimo riassunto della puntata precedente come si dice perché i due incontri, quello della volta scorsa e questo, sono stati immaginati in stretta continuità e immagino che qualcuno tra il pubblico potrebbe non aver giustamente assistito all'altro che era, diciamo, era un incontro che illustrava la figura di uno storico e il suo fondamentale libro lo storico è Henri Ellenberger e il libro è, o Ellen Berger a seconda diciamo delle pronunce e il libro è The Discovery of the Unconscious, The History and Evolution of Dynamic Psychiatry del 1970 tradotto in italiano nel 1972 come La scoperta dell'inconscio, storia della psichiatria dinamica e un libro importante la cui impostazione traspare già dal libro fondamentale la cui impostazione traspare già dal titolo, nel senso che la psichiatria già dal titolo è declinata come psichiatria dinamica, quindi come psicoterapia e la sua storia, la sua evoluzione viene fatta coincidere con la progressiva emergenza della scoperta di qualcosa che viene definito inconscio. Quindi un percorso di grande continuità articolato in tre fasi fondamentali e diseguali fra loro come tempi un lunghissimo tempo immobile in cui la psicoterapia passa attraverso la terapia magica la terapia esoterica, alchemica, la magia dei popoli primitivi o degli antichi uno scarto pur nella continuità che avviene alla fine del Settecento con quella che Lemberger definisce prima psichiatria dinamica, il mesmerismo poi le pratiche del magnetismo animale, del sonnambulismo partono dall'idea di un fluido universale curativo e poi fino all'ipnosi, alle grandi scuole dell'ipnosi dell'Ottocento e poi una nuova psichiatria dinamica in cui Lemberger pone sullo stesso piano le scuole di Jeannet, di Freud, di Adler e di Jung. È un libro che crea una rottura nel modo di vedere la storia in particolare la storia del concetto, delle pratiche legate all'inconscio perché scardina l'idea dell'inconscio come una scoperta personale improvvisa, totalmente originale di Freud mostrando come invece Freud riprenda, in parte copi idee radicate almeno in un secolo di storia e pratiche radicate probabilmente in millenni e anche per questo, non stupisce, il libro di Lemberger fu in parte osteggiato, non totalmente, ma in parte osteggiato degli ambienti psichiatrici e tuttavia ebbe una grandissima fortuna che si è evidenziata dalla traduzione in svariate lingue tra cui incluso il giapponese e la prima delle quali però è stata l'italiano. Un successo che potremmo dire però parziale. Perché parziale? Perché se Lemberger è rimasto da tuttora una fonte inesauribile, sempre consultata di dati, di fatti, di notizie anche grazie all'enorme ricerca di fonti e alla grande capacità anche di criticarle, interpretarle, utilizzarle all'interno della narrazione e contestualizzarle di Lemberger che era uno psichiatra ma anche uno storico acuto mentre viceversa, con alcune eccezioni, diciamo che questo libro si può dire ha avuto meno fortuna dal punto di vista della lettura generale dell'interpretazione, della chiave di lettura del processo storico che offre anche se non sono mancati dei altri studiosi che hanno ripreso alcune impostazioni in particolare per quanto riguarda il discorso della continuità ottocentesca fra mesmerismo e via dicendo fino ad arrivare alla psicoanalisi su cui ci sono stati diversi libri nella seconda metà del Novecento. e quindi diciamo un libro in parte più citato che letto più citato che letto approfonditamente e però anche criticato da alcuni punti di vista in parte perché sono emerse nuove ricerche che hanno approfondito singoli temi da lui trattati in parte perché si sono affermati filoni diversi di vedere la storia della psichiatria chiavi di lettura in parte legati al pensiero diciamo impositivo o criticamente al pensiero di Foucault che privilegiano lo sviluppo della nosologia psichiatrica o lo sviluppo delle pratiche manicomiali, asiliari oppure altre letture ancora che privilegiano l'aspetto filosofico della scoperta dell'inconscio o più rare che studiano gli sviluppi della psicofarmacologia e poi più recentemente ancora una tendenza a criticare dal punto di vista metodologico sul piano metodologico Ellenberger per vari motivi, per il modo in cui considera l'inconscio come qualcosa di dato e non come un concetto che viene costruito culturalmente ma soprattutto perché malgrado tutto mantiene in qualche modo un'impostazione che possiamo definire in qualche modo teleologica cioè malgrado tutto il lavoro che lui fa di contestualizzazione dei fatti storici rimane il fatto che i fenomeni che studia come il mesmerismo o altri vengono letti in quanto ne vengono evidenziati gli aspetti che secondo lui anticipano quello che poi avverrà nelle scuole psicoanalitiche e psicoterapeutiche del Novecento quindi da molti punti di vista un'esigenza di relettura che insieme ad Andreas abbiamo provato a porre in atto porre in atto come ideando, curando, chiamando a raccolta degli amici e dei colleghi per produrre questo numero del sogno da far fare quindi forse abbiamo l'indice da mostrare che si basa su questa idea cioè può mettere insieme studiosi e professionisti di diversi ambiti disciplinari quindi storici, storici della psicologia e della scienza ma anche psichiatri interessati alla storia per cercare da un lato di ricostruire da un lato appunto alcuni alla luce di nuovi studi di nuove impostazioni alcuni passaggi fondamentali ovviamente non tutti della narrazione di Allenberger per quanto riguarda in particolare questo periodo dell'Ottocento e anche provare a esaminare alcuni passaggi alcune piste che invece Allenberger ha piuttosto trascurato e questo direi è l'impostazione anche di questa giornata in cui ci sono due degli autori insieme a me e a Andreas ci sono due degli autori del numero Andrea Masini e Carmela Morabito e altri due colleghi di nuovo uno psichiatra e uno storico della scienza che ci aiuteranno anche a fare un passo avanti e questo numero era considerato come un punto di inizio e il fatto di oggi di avere altre voci ci consente sicuramente di proseguire nel percorso io per quanto mi riguarda non so anche del fatto di Andreas ringrazio tutti e cedo la parola grazie Paolo per l'introduzione grazie a tutti per essere qui stasera anche coloro che sono collegati grazie anche a voi e grazie a David per questa per questa bella introduzione rispetto al focus di queste due giornate io cercando di essere breve per tutta una serie di motivazioni anche interne alla scuola vorrei soltanto fare una precisazione penso di non essere mai stato così d'accordo rispetto a un'introduzione critica dell'opera su tutti i punti che hai citato la decuverta come una conquista parziale la mancata interpretazione storica d'insieme dell'opera e delle critiche sul piano metodologico qual è la critica secondo me sul piano metodologico principale che deve essere portata a quest'opera e se vogliamo anche all'autore voi mi scuserete io pronuncio l'emberger e non l'emberger per una causa mia personale non so se avete mai sentito parlare del PUD il piano umiliazione dottorandi io il primo giorno di dottorato dissi l'emberger al mio direttore di dottorato che mi rispose della Rocca lei non sa niente veniva dal Canada francese si dice l'emberger fu un trauma devastante quindi lo pronuncio in questa maniera e voi comunque pronunciatelo come volete ecco cosa vorrei fare io per portare avanti una riflessione che devo essere onesto è stata una delle mie prime riflessioni come giovanissimo storico della scienza avevo appena cominciato a lavorare con la mia migliore amica e maestra cioè Carmela Morabito che ci ascolta con queste cuffie da gamer come si fa qua a mettere a schermo intero vediamo se troviamo un modo allora datemi un secondo solo prometto che prometto è a schermo intero lì vabbè si vede abbastanza bene diciamo che è una questione molto legata alla visione il mio intervento di oggi cercherò ovviamente di essere breve perché perché comprendere Charcot attraverso il suo tempo e perché comprendere il suo tempo attraverso le immagini beh i motivi sono vari una questione l'ha introdotta Paolo Fiorinastro prima e io penso anche su questo raramente potrei trovarmi più d'accordo con qualcuno la conoscenza storica critica è una conoscenza che deve far parte del bagaglio culturale e anche del bagaglio epistemologico di qualsiasi psicoterapeuta di qualsiasi psichiatra di qualsiasi persona che si avvicini a una scienza che ha fatto la storia e dalla storia è stata fatta in maniera così tanto profonda e quindi questo si lega anche alla critica che io volevo in qualche modo puntualizzare dal mio punto di vista rispetto a quello che diceva David uno dei grandi problemi della scoperta dell'inconscio è la storia dei medaglioni come la chiamiamo noi nella storia della scienza cioè una storia fatta di precursori da mettere dentro al medaglione di una cornice per poter dire ecco questa è la lunga fila di autori che hanno portato a quello che c'è oggi e poi c'è un altro come dire errore se volete naif perché l'embergé nasce scienziato e poi si ritrova come molto spesso avviene a essere uno storico cioè è una storia che si basa molto sull'individualismo metodologico cioè si basa molto sull'idea che una singola persona a un certo momento determini la storia di una scienza la storia di un movimento culturale la storia di una filosofia e se è vero innegabilmente che ci sono delle figure che catalizzano un pensiero una riflessione che sono in grado di dare vita alla voce di un movimento se mi passate in termine filosofico di quelli brutti a una Weltanschauung a una visione del mondo è vero anche che la Weltanschauung è sempre fatta da una collettività è sempre fatta da un gruppo cioè una frase molto bella che io vamo citare di un grande storico della scienza forse uno dei più importanti storici della scienza Thomas Kuhn che nella struttura delle rivoluzioni scientifiche del 1962 scrive che proprio come nelle rivoluzioni politiche così nella scelta di un paradigma all'interno di un pensiero scientifico non esiste uno standard più alto che quello dell'assenso di una comunità rilevante e quindi questo giustifica perché io vi sto proponendo di spendere del tempo ascoltando le mie ciance sulla questione della comprensione del tempo di Charcot ma perché le immagini questo anche non è un vezzo non è una questione secondaria io vorrei partire da subito da una da una riflessione innanzitutto Charcot è l'uomo che ha portato l'immagine nella psichiatria e ha reso una parte della psichiatria degna di essere rappresentata rappresentata attraverso alcuni stilemi che erano degli stilemi ben precisi che erano degli stilemi fotografici vedremo più avanti perché questo è così rilevante io per ora posso soltanto anticiparvi un'altra citazione di un autore che amo molto che è Zola non è un non a caso un coevo di Charcot che nel 1901 in un'intervista a una rivista britannica dichiarerà nella mia prospettiva non si può dire veramente di aver visto qualcosa fino a che non la si è fotografata in qualche modo stupisce per questa grande somiglianza con tutto quello che sarà il pensiero di Charcot e il lavoro di Charcot all'interno della Salpetriere ma a proposito di questo che non si dica che gli storici della scienza non portano cose divertenti ai convegni non si dica mai siamo una specie in via di estinzione ma siamo pieni di risorse le anime delle feste normalmente questo è il numero originale delle mondi illustrari nella settimana in cui muore Charcot e vorrei che voi guardaste attentamente il modo in cui Jean-Martin Charcot è rappresentato all'interno di questa di questa copertina è rappresentato in un'iconografia che diverrà una sua iconografia classica post-mortem cioè quella del Napoleone della medicina un soprannome che gli era spesso stato affibbiato la sua capacità alcuni dei suoi elievi scrissero che proprio come Napoleone aveva l'occhio strategico per comprendere quale fosse la mossa migliore lui aveva l'occhio diagnostico tale da poter comprendere al primo colpo qualsiasi cosa avesse davanti qualsiasi malattia avesse davanti in qualsiasi persona al di là delle apologie questa è un altro degli esempi che motivano la mia affermazione cioè Charcot va capito attraverso il suo tempo e il suo tempo va capito attraverso le immagini di quel tempo non è un caso che sia sulla copertina della scoperta dell'inconscio dell'edizione italiana dei Bollati Boringhieri sia nella ripresa da parte dei colleghi della scuola l'immagine che noi naturalmente associamo alla figura di Charcot e all'opera di Charcot è questo quadro di André Bollier del 1887 in un lesson clinique alla Salpetriere oggi è conservato in un corridoio dell'Istituto di Storia della Medicina dell'Università di Paris Descartes e io credo che insomma alzi la mano chi non ha mai visto questo quadro è assolutamente impossibile aver avuto un interesse nei confronti della psicologia o della psichiatria senza mai essere incappati nella visione di questo quadro di cui noi per l'appunto un po' ricommettendo ingenuamente l'errore di Ellen Berger ci concentriamo sulla figura centrale cioè ci concentriamo sul Napoleone della Medicina Charcot quasi al centro della stanza all'epoca i pittori di quel movimento tendevano già a sfruttare la tre quarti della scena per mettere il soggetto favorito però ecco io non parlerò di Jean-Martin Charcot io non parlerò di lui penso che ci sono colleghe e colleghe molto più bravi per fare questo io mi parlerò di chi sta in questo quadro di cui voi probabilmente in alcuni casi avete sentito nominare forse anche più spesso di Charcot ma in contesti differenti e persone che non avete sentito nominare mai ma che come vedrete andranno a dipingere un quadro che è proprio quello del suo tempo parto rapidamente per non farmi tirare qualcosa come ci eravamo messi d'accordo prima con la prima persona a fianco a Charcot sulla sinistra che è Paul Richer questo è qualcosa che mi fa piacere perché insomma David su prima mi ha dato un assist ribadendo questa grande intuizione lembergeriana quella di far partire una riflessione sulla scoperta dell'inconscio dalle terapie magiche Richer è un anatomista è un fisiologo ma è anche soprattutto un artista dell'anatomia lui viene chiamato e assume un ruolo così centrale all'interno della Sal Petriere addirittura il direttore del laboratorio non del laboratorio fotografico del laboratorio to cure quello che si occupa di ogni tipo di rappresentazione delle malate dall'82 all'86 è tra i principali collaboratori e una delle anime della nouvelle iconographie photographic della Sal Petriere quindi è lui che decide i soggetti e su quale base decide i soggetti David prima parlava di terapie magiche io vorrei ricordare che Richer insieme a Charcot è il grande protagonista di una cosa che oggi normalmente si dice insomma almeno gli storici diciamo non si deve mai fare la medicina retrospettiva sull'isteria lo sguardo retrospettivo sull'isteria cioè andare a vedere nel passato quello che poteva essere interpretato con le categorie a loro coeve come isteria ma che prima era stato per esempio considerato come possessione scrivono scrivono Charcot e Richer nel 1887 questo volume delizioso ve lo consiglio ovviamente non esiste in traduzione italiana ma è in libero dominio quindi lo potete sfogliare le indemoniate nell'arte le demoniac d'enl'arte che è una raccolta di tutte quante quelle iconografie rappresentazioni attraverso le statue i dipinti le graviure le incisioni delle proto-isteriche cioè di quelle isteriche che non poterono essere riconosciute come tale perché perché non era arrivato Charcot per l'appunto a proposito della storia dei medaglioni vado avanti rapidamente a fianco a Ritcher abbiamo Ferret Ferret è particolare che è un medico inizia la sua carriera sotto la guida di Achille Flaubert il cognome vi dovrebbe indicare qualcosa perché Achille Flaubert è il fratello di Gustave Flaubert cioè uno in altro dei più grandi autori dell'ettraatura francese del tempo dopo l'esperienza con Charcot diventa capomedico ufficiale a Bisset ed è autore tra le varie pubblicazioni di un'opera che in qualche modo richiama quello che abbiamo visto che l'abbiamo letto tutti e tutti nell'MRC cioè la questione sul magnetismo vorrei farvi notare chi è il coautore cioè Alfred Binet cioè colui che insieme a Simon determinerà tutta quanta la psicologia scientifica la psicometria contemporanea a partire dalla costituzione del primo test intelligenza questo anche solo in qualche modo per darvi un quadro di quanto la figura di Charcot del suo entourage fossero poi rilevanti all'interno delle intere scienze della mente francese e poi a fianco ancora troviamo un signore che conosciamo tutti Pierre Marie perché lo conosciamo tutti perché Marie è uno dei famosi tre eponimi della malattia di Charcot-Marie Tutte cioè la neuropatia ereditaria che porta il loro nome Marie è un diagnosta bravo quanto almeno quanto Charcot è per esempio lui descrive per la prima volta una serie di disturbi tra i più variegati insomma mi piace in particolare ricordare la questione della tassia cerebellare congenita ma guata sia di Marie quello che meno le persone conoscono di Pierre Marie è piuttosto il fatto che lui a un certo punto molla la carriera medica e diventa giornalista politico diventa giornalista politico di un tipo un po' particolare perché lui all'inizio in realtà si occupa di cultura fisica che è una parola che a noi dice poco e niente ma voi dovete sapere che alla fine dell'ottocento in Francia c'era questo grande movimento d'opinione da cui poi viene la parola oggi culturista cioè quelli che si fanno i muscoli di questo movimento che insomma propagandava l'igiene sociale fisica e mentale attraverso lo sport lui scrive per queste riviste di settore che hanno una forte valenza politica poi a un certo punto a partire dagli anni 30 si avvicina sempre di più al movimento socialista e finirà per diventare il più grande esperto all'interno del movimento operario di questioni legate allo sport addirittura riceverà degli incarichi governativi in questo senso e Marie non è neanche l'unico giornalista a questa tavolata perché è poco più in là io ho dovuto saltare qualcuno perché altrimenti facevano saltare la mia linea c'è Jules Clarety Jules Clarety è un altro personaggio particolare perché noi lo conosciamo essenzialmente nei studi letterari dall'85 è direttore della Comédie Française dall'88 addirittura è un membro dell'Accademy Française ma lui nel 71 è un ufficiale di collegamento della Guardia Nazionale della Comune di Parigi ecco qua mi permetterete una piccolissima digressione in questo momento storico un po' particolare perché in pochi ricordano che la Salpetriere assume la direzione di di Charcot subito dopo la Comune di Parigi un episodio storico che noi tendiamo un po' a sottovalutare è stata definita propriamente come la prima esperienza autenticamente comunista della storia dell'Occidente dal 18 marzo al 28 maggio del 71 la città di Parigi stretta tra la resa della Repubblica Francese e della della Prussia decide di occupare tutti quanti gli arrondismoni della città e autogestirsi in un'esperienza insurrezionale che viene repressa nel sangue nella famosa semen sanglant vi chiederei di tenere da mente questa parte questa parte perché vedremo poi che la Comune di Parigi e l'esperienza a posteriori di questo tentativo insurrezionale francese ritorna molto prepotentemente all'interno della storia di Charcot però vado avanti adesso perché in qualche modo c'è un collegamento anche con la questione delle esperienze democratiche le esperienze rivoluzionari vi parlo di Edouard Brissot Brissot era considerato uno degli allievi prediletti di Charcot sicuramente il suo pupillo diciamo tra quelli senior li chiameremmo oggi per esempio per farvi capire insieme a Charcot e Bouchard è quello che scrive il Trette des Medicines che è considerato questo insomma capolavoro teorico diagnostico insomma un trattato di medicina generale che attraversa e che copre tutti gli ambiti del sapere medico pensate addirittura che alla morte di Charcot viene incaricato da una reggenza dei suoi allievi di prendere la cattedra di disturbi del sistema nervoso che era stata il maestro fino all'elezione del suo successore del successore di Charcot questa è già una cosa che vi dovrebbe far riflettere perché dentro all'entourage di Charcot il successore si votava non veniva deciso da fuori non veniva deciso per dinastia non veniva deciso se sei il cugino di qualcuno come qua in Italia veniva deciso per elezione per elezione degli allievi questa è una cosa molto importante perché perché è la testimonianza di come alcuni aspetti del tempo di Charcot una società che aveva conosciuto la Repubblica le Repubbliche le Rivoluzioni e la Restaurazione riteneva corretto al suo interno decidere democraticamente decidere attraverso le elezioni chi fosse il successore comunque alla fine i brogli c'erano pure là perché vincerà i mondi insomma per una questione di per una questione di alcuni inghippi tra l'altro quello che ne pagherà di più le conseguenze è Babinski ma lo vediamo fra un po' rapidamente giusto per citare e omaggiare l'ultima volta che parlai da questo palco a cui sono molto affezionato Baillet Baillet scrive diversi libri in particolare ve ne cito uno giusto per darvi ancora questa la dimensione di come la medicina la letteratura l'arte si mischiasse in quel periodo nel 97 Baillet pubblica Legendo Neurastenik poi verrà tradotto come il trattamento dei nevrastenici con Adrian Proust che è il fratello di Marcel Proust della Recherche di Don Perdue e lo scrive dentro casa di Adrian Proust abbiamo diversi pezzi della Recherche dei diari di Proust che testimoniano mentre loro facevano le diagnosi Proust che andava là cercando di capire cosa facessero insomma e nel 1911 è il primo a descrivere il concetto di psicosi allucinatoria cronica di cui vi giuro non vi parlerò però ve lo volevo dire perché a fianco ancora ma questo lo salto proprio lascio l'onere a Carmela che so che è collegata e che mi sente tra questi un po' defilato c'è una figura che è fondamentale che è quella di Ribot Ribot è il padre della psicologia sperimentale francese è il vero ponte tra la tradizione anglosassone Carmela dopo vi parlerà di Jackson è Ribot che porta Jackson in Francia è Ribot che porta Punta in Francia è Ribot che porta la psichiatria tedesca all'interno del dibattito francese e non è un caso che per esempio alcuni concetti che torneranno anche dopo penso nell'intervento di Carmela come quello dell'importanza delle lesioni funzionali per comprendere il funzionamento della mente Charcot le mutua esattamente da Ribot con cui cosa sempre poco nota nel 1889 presiede il primo congresso internazionale di psicologia mondiale lo coordina Ribot lo introduce a Ribot ma Charcot è sul palco perché per sua espressa decisione Charcot vuole avere una parola all'interno della nascente disciplina scientifica che sta sorgendo anche istituzionalmente in Francia corro e ho finito Albert Londa altro autore perché questo autore è importante perché questo è l'uomo che non era neanche un medico era un chimico poi diventa un fotografo e poi diventa un cronofotografo diciamo l'antesignano di quelli che poi saranno quelli che si occupano di cinema dall'84 dirige il laboratorio fotografico della Salpetriere e probabilmente il suo contributo è il più importante di tutti quelli dati da un non medico perché? perché tutte le foto che noi conosciamo delle pazienti di Charcot sono realizzate da Albert Londa grazie a questa macchina che inventa insieme a Meri che è un fisiologo che si occupa di lavorare con lui diciamo al razionale dietro questa macchina è una macchina fotografica dotata prima di nove lenti nella versione dell'82 poi di 12 nella versione del 91 attivate da un impulso elettromagnetico guidate da un metronomo che quindi permettono di cogliere la successione dei movimenti muscolari se noi abbiamo potuto cogliere l'evoluzione dell'arc du cercle l'arco di cerchio è perché questa macchina da Londra è stata costruita esattamente per questo scopo questo per tutti quelli che avessero eventualmente letto il libro l'invenzione di listeria da parte di di Huberman questa era il Deus Ex Machina rapidamente perché non si può non citare Gilles de la Tourette col camice bianco davanti al maestro Tourette poverino tutti lo conosciamo perché è l'eponimo della malattia insomma del stupro neurologico che è ben noto forse anche troppo popolarizzato purtroppo Tourette ha una vita molto breve perché è un po' sfigato mettiamola così nel 1904 e vede una paziente visita scusate nel 1893 visita una paziente paranoide che non si dà come è riuscita a portare una pistola all'interno di una salpetriere questa paziente esplode tre colpi in direzione di una Tourette un ultimo dei quali riprova un gravissimo danno cerebrale questo lo porta a un grande stato di depressione addirittura dopo deve assistere a due suicidi da parte di colleghi questo peggiora terribilmente le cose e infine come dire il carico da 10 come si dice al quartiere mio la neurosifilide che intanto covava muore in un manicomio a Lausanne insomma solo abbandonato la famiglia da tutti ma noi lo ricordiamo sempre con affetto e adesso mi sposto io lo ricordo con affetto voi fate come volete se volete essere sarcastici vado avanti e torno sul gruppo di Charcot adesso perché se no perché sento già dei sospiri Babensky Babensky anche è difficile non conoscerlo per il segno di Babensky quello che facciamo tutti quanti che facciamo che fate voi no Babensky era polacco ma era naturalizzato francese quindi sempre questa cosa dell'umiliazione di Poggi il famoso segno è Babensky il segno neurologico plantare Babensky è uno dei poveri che viene è uno dei pochi che subisce la vendetta di chi notiava Charcot cioè di fatto la sua carriera viene continuamente ostacolata per essere il pupillo del maestro e lo vediamo che è il pupillo del maestro lo vediamo dal quadro perché sta sorreggendo l'isterica durante la dimostrazione del martedì e allora a questo punto per cercare di tirare un po' le somme e anche come dire visto che avevo notato qua che già eravamo tutti maschi sul palco questo è un quadro di tutti maschi tranne una donna chi è questa donna? cioè chi sono le donne della Salpetriere? intanto sono le donne della comune sono donne povere adesso a questo ci torno dopo sono donne povere sono donne che hanno sofferto in maniera atroce spesso quasi tutte vittime di violenze domestiche o di stupri Marie Blanche Whitman che è la donna rappresentata all'interno del quadro viene ammessa nel 77 alla Salpetriere con uno stratagemma lei si presenta come inserviente si presenta per fare le pulizie solo per cercare di essere ammessa e ricoverata da Charcot che la mette la ricovera la prende in carico e la seguirà fino all'ultimo giorno di vita Charcot è il suo soggetto preferito per le dimostrazioni di martedì perché Blanche Whitman è come dire è considerata la regina delle isteriche proprio per la sua come dire capacità non soltanto di assumere su di sé i segni della malattia ma soprattutto di mostrarli senza remore senza pudore all'interno delle dimostrazioni morirà in maniera tragica perché rimarrà anche dopo la morte di Charcot nella Salpetriere diventerà assistente di radiologia prima che purtroppo la gente scoprisse c'è bisogno del piombo per non morire quando fai quando usi i raggi X e Babensky è retta Babensky regge Blanche Whitman molto teatricamente forse non è un caso perché Babensky lo conosciamo tutti per il segno neurologico ma nessuno lo conosce come drammaturgo eppure lui fu un grande drammaturgo sotto pseudonimo si chiamava Olaf dopo vi racconto chi l'ha scoperta questa cosa scrisse quest'opera Le Detraché che è un'opera in stile gran ghignole l'omicidio di una studentessa tutto sangue una cosa che riscoda un grandissimo successo tra le persone che lo ammirano tantissimo c'è André Breton il padre del surrealismo vedremo che Breton c'è anche un altro collegamento con Babensky ma ci arrivo fra pochissimo voglio ritornare sulle donne della Salpetrier quest'altra donna la foto vedendola così non vi dice niente però se invece ve la faccio vedere come l'ha dipinta Toulouse-Lautrec tutti quanti abbiamo visto questa stampa in tutti i peggiori bar di Roma e di Caracas questo è perché lei era Jeanne la pazza la più famosa ballerina di Can Can del Moulin Rouge ammessa e poi tenuta per due anni in ricovero da Charcot non perché fosse diagnosticata come isterica ma per proteggerla dalla madre che l'aveva malmenata più di una volta anche davanti a Charcot stesso ultima donna che non posso non nominarla è Augustine cioè la paziente Charcot ammessa alla Sarpedria nel 75 ha solo 14 anni aveva 10 anni all'epoca della comune quando viene ammessa per la prima volta riporta di aver subito almeno tre violenze sessuali da cui l'ultimo e due da parte del compagno della madre diventa il prototipo e la modella non è un errore tipografico è proprio la modella perché è quella che si fa fotografare di più nelle rappresentazioni fotografiche dell'isteria charcotiana e pochissimi sanno che quando si rifiuta di essere fotografato ulteriormente viene messa in isolamento come punizione scappa nel 1880 e poi noi non sappiamo più niente di lei fino alla morte poi gli storici hanno ricostruito ma non va del tutto come dire ignorato il fatto che lei sia scappata dalla Salle Petriere e non lo notano tuttavia i report medici lo notano altre persone in realtà un medico un medico un po' particolare c'è proprio André Breton il padre del surrealismo perché Breton nasce medico nasce psichiatra nasce soprattutto come allievo i Babelsky è lui che scopre che questo Olaf che l'ha fatto tanto divertire a teatro in realtà è la persona con cui lui ha studiato per sei mesi ha fatto l'internato e perché è così importante questa storia di Breton perché è questa cosa poco ricordata se non in letteratura nel numero del 1928 della rivoluzione surrealista Aragone e Breton scrivono questo articolo che vi giuro non vi tradurrò al massimo in privato dopo se volete si chiama il cinquantenario dell'isteria che è a lungo ed è una celebrazione della fuga di Augustin dalla Salpetriere chiaramente il pensiero di Breton e Aragone in questo caso potremmo definirlo a posteriori come un pensiero antipsichiatrico allora vanno a definire l'isteria come la massima espressione del dinamismo mente corpo umano una cosa che epistemologicamente ha anche un suo fascino comunque concludono scrivendo viva Augustin viva la libertà e viva l'isteria ecco non so se in questa rapida carrellata il più avrei potuto parlare per altre sette ore di ciascun personaggio e tutti quegli omessi vi abbia un po' dato l'idea di quanto sia stata importante questa figura per il suo tempo cioè Charcot per il suo tempo e di quanto il suo tempo sia stato importante per lui pensate all'invenzione della fotografia pensate a questa teatralità pensate all'esperienza della comune pensate al fatto che dentro alla novella iconografia dei fotografi della Salpetriere voi trovate di fatto al 96% solo ed esclusivamente delle soggette donne che vengono dall'esperienza della comune e delle violenze subite dopo e io credo che questo come dire lasciando a voi lo spazio dell'interpretazione e alle mie colleghe e ai miei colleghi più bravi ed esperti di me una valutazione del pensiero clinico e scientifico di quest'uomo e della sua cerchia un ultimo regalo che vi vorrei fare questa è una cosa a cui tengo sempre molto ne parlo sempre tanto ma non la faccio mai vedere a nessuno se volete vi vorrei così bene ve la farei addirittura passare tra i banchi se volete potete venire qua facciamo forse è meglio questa è una diapositiva originale di Agustin è una diapositiva originale che Charcot dona a Rubinovich cioè Rubinovich questo si può dire alla russa perché era russo poi migliora in Canada ma dopo Rubinovich è un neurologo che studia per un breve periodo fa un internato da Charcot solo che poi quando ritorna dopo aver essersi fatto dare queste foto lui è fissato con l'ereditarietà dell'alcolismo quindi qua vedrete sulla dita scalia che c'è scritto giovane figlia di due parenti alcolizzati non era assolutamente vero nessuno sa chi è il padre Agustin però insomma non è un problema il punto è che noi oggi vediamo questa cosa e ricordo la prima volta che ci misi le mani sopra non mi chiedete come ho fatto non dovete come indiana immaginatevi come indiana Jones preferite in questa foto in questa foto qui non c'è soltanto come dire lo spirito di un uomo lo spirito di un'idea c'è lo spirito di un'epoca e se questo è il momento come io penso e penso che anche i miei colleghi qui pensino la stessa cosa per altri motivi questo è il momento in cui nasce in cui possiamo dire che comincia la scoperta dell'inconscio in maniera scientifica io credo che sia giusto in qualche modo celebrarlo anche attraverso tutto quello che c'è di bello di brutto di esteticamente appagante di moralmente forse discutibile di ontologicamente discutibile se volete rispetto a un periodo storico che nel bene e nel male ha segnato un'epoca non solo nella scienza ma in tutta la società grazie grazie a tutti grazie a tutti